ciao a tutti amici e amiche di quinta dimensione letture bentornati qua sul mio canale e un benvenuto ai nuovi che saluto con molto affetto e grazie di essere qua iscrivetevi chi non si è ancora iscritta o iscritto e attivate anche la campanellina cliccando su tutte se volete ricevere tutte le notifiche di questo canale io vi ringrazio sempre tutti e vi mando un grandissimo abbraccio in modo particolare anche chi ha parlato con me in privato che siete veramente bellissimi e poi anche chi insomma mi manifesta il proprio affetto anche in altri modi ringrazio tutti gli iscritti che continuano sempre a crescere oggi volevo fare questo regalo per voi una cosa molto carina e parlerò delle parole magiche che sono di cristiano tenka che ha scritto molti libri su queste cose che vuole andare a vedere su internet i suoi libri cristiano tenka si chiama parole magiche e ho visto sempre sapete che metto sul mio canale dei contenuti comunque verificati da me prima di darli a voi ok comunque cose che ho visto funzionare poi chiaramente se hanno funzionato qualcuno magari un altro non funziona sempre e va bene fa parte della vita dipende molto anche l'approccio molto la credenza la fede che si mette in tutto quello che si fa che io vi vi consiglio sempre di metterne molta fiducia proprio è fede incrollabile ok parliamo di questa luna piena che avviene tra pochi giorni comunque il 26 maggio 2021 e volevo proporvi delle parole magiche molto potenti per questa luna piena che è molto particolare tra l'altro che è proprio la più grande di quest'anno del 2021 perché sarà proprio nel punto più vicino alla terra il cosiddetto perigeo no e inoltre non c'è solo la luna piena il 26 c'è anche un eclissi quindi ragazzi e ragazze abbiamo di tutto qua possiamo aprire veramente delle porte veramente magiche a livello di portali di energie che ci vengono dal cosmo eccetera e mi raccomando la sera del 26 o comunque dall'orario in cui l'orario preciso che si può vedere sempre su internet quando sorgerà nella vostra città perché per ogni città c'è qualche minuto di differenza possiamo mi raccomando veramente recitare queste parole dare un input veramente forte perché siamo aiutati a delle energie anche di un eclissi e questa eclissi comunque vedrete che poi se va facciate fuori la guardate questa luna piena del 26 maggio sarà anche rossa ok avrà questa tonalità rossastra e apposta si chiama così insomma la super luna di sangue gli hanno dato anche questo nome però insomma ecco è una tonalità di rosso che prende proprio questa tonalità grazie all'eclissi e allora vediamo un po queste parole magiche quindi che volevo dirvi come vedete qui davanti ho poi vi metto anche un messaggio per voi finale ho questa che è una genesa faremo dei video sulla genesa che è un particolare circuito molto energetico di potenza e ve la consiglio veramente perché messa in casa comunque si compra sempre su internet se volete fatte a mano sempre sono e il prezzo varia a seconda della grandezza questa è una grandezza media tipo di 16 centimetri poi c'è anche altre o anche la pentasfera che è quella che ha dei cerchi in più di questa insomma ognuna ha la sua particolarità questa qui comunque aumenta l'energia di dove la metti fino ad un raggio di 250 metri da te ok quindi può essere messa in salotto in camera che ne so sopra i mazzi di tarocchi con dei testimoni all'interno adesso vi spiego come anche per far accadere le cose da una potente energia una simbologia comunque sacra è fatta veramente bene andatevi a leggere cos'è una pentasfera o una genesa questa è la genesa crystal per esempio la pentasfera la successiva quella ancora più che ci dà proprio la connessione con le altre dimensioni questo è proprio invece per far accadere gli eventi e le cose quindi questa formula magica che vi dico adesso intanto ve la leggo io ascoltate come si legge perché sono parole particolari poi ve la metto in sovraimpressione e ve la scrivo anche sotto nell'info box possiamo o recitarla solo quindi la recitiamo noi con la nostra voce oppure per chi è pratico o anche se non lo sapete vi dico io come fare mettiamo il post it dentro la genesa crystal allora intanto sposto questa vi invito a scegliere una di queste stese di oggi perché vi do poi un messaggio che dura un mese che dura 30 giorni dagli oracoli sia i miei ma anche altri vi metto anche oltre che a un consiglio e un oracolo un messaggio per voi oggi in questo momento perché tanto se siete qui sapete come la penso io la sincronicità non sbaglia mai quindi c'è qualcosa probabilmente che devi vedere o sentire vi metto anche dei segni zodiacali particolari con cui potreste avere a che fare in questo mese a partire dal 26 ok che c'era luna piena fino alla prossima luna piena successiva scegliete la stesa 1 con il bottone verde la stesa 2 con il bottone giallo la stesa 3 con il bottone blu scegli distinto chiaramente come dico sempre lascio sopra qua le stese ok allora tra l'altro a forma di luna il bottoncino è praticamente che cosa succede con questa formula può recitarla dalle 3 alle 5 volte al giorno va bene dalle 3 alle 5 volte al giorno quando vuoi tu a voce normale come stai ascoltando me ok la voce normale e che cosa serve questa parola magica allora praticamente chiediamo di aumentare ok aumentare tutto ciò che deve crescere o che vogliamo realizzare di accelerare le cose chiediamo proprio un'accelerazione di quello che deve accadere che deve avvenire oppure anche poi chiedere di realizzare un sogno una cosa che è particolarmente a cuore in questo momento va bene per tanti campi la possiamo fare questa formula per l'amore per il denaro i soldi la prosperità quindi per l'abbondanza per aumentarci insomma le nostre entrate economiche per il lavoro quindi anche per chi di voi è interessato alla creatività è un artigiano insomma per le produzioni che fa con le mani queste cose qua per la bellezza quindi per incrementare anche la bellezza fisica per la salute anche una certa guarigione entro i termini del possibile mi raccomando il medico prima sempre di tutto però chiediamo aiuto anche alla luna per la salute quindi una guarigione per un benessere tuo personale ma appunto anche per dei cambiamenti se devi prendere una decisione chiedi che aumenti il potere di questa decisione chiedi alla luna di darti la comunque anche la risposta giusta cos'è che devi scegliere cosa devo fare no queste cose qua aiuti per la famiglia aiuti per i tuoi figli per avere più conoscenza per quelli di voi che studiano che stanno studiando devono fare un esame tutti tutti questi campi qui chi deve affrontare una causa legale per esempio sta aspettando delle cose dagli avvocati degli esiti delle sentenze non sa come affrontare le cose chiediamo questa fortuna ok chiediamo questa positività questa conclusione positiva per te che ascolti quindi che la cosa che tu metterai adesso in questa frase magica che io ti dico che questa frase aumenti ok la cosa che ti interessa e insomma vedete voi i campi sono tanti le cose della vita sono tante come sappiamo tutti e quindi cerchiamo anche aiuto oltre quello terreno no perché comunque siamo sempre costretti anche a cercare aiuti materiali da professionisti vari che ci possono aiutare se ti devi rivolgere ad un avvocato ci devi andare dall'avvocato neanche poi aspettare la luna ok queste sono tutte cose in più che aiutano ragazzi aiutano aiutano però aiuta di più chi si pone con assoluta fiducia ecco perché a me non funziona a me sì non è così cioè non è non si può dire che non funziona funziona chi ci crede ragazzi così funziona l'energia funziona il sincronismo ok e l'avverarsi anche delle cose che dalla quinta dimensione e oltre arrivano da noi qua giù alla terza dimensione per farle manifestare nella vita vogliamo sta felicità quando viene sta felicità magari ce l'abbiamo già nelle altre dimensioni siamo già a posto e che non si riesce a materializzare qua su questo piano e questo discorso ecco perché dico sempre la connessione il lavoro personale andate voi nelle dimensioni superiori con la meditazione con il lavoro personale perché così riusciamo ad equilibrare questa distanza energetica che c'è dalla terza dimensione andando sulla quarta la quinta la sesta la settima l'ottava fino alla dodicesima ok la frase è questa adesso ve la metto anche in sovraimpressione la potete recitare sopra la mia voce o farvela con comodo quando vi pare fate lo screenshot o del video o della descrizione sotto dove la scrivo fate come volete dalle tre alle cinque volte al giorno ok la sera del 26 ok di questo mese di maggio 2021 e vi posso dire anche un'altra cosa fino al 29 quei due tre giorni 28 29 l'influsso questo flusso positivo continua la luna non è che ha finito lì non c'è l'orario vabbè sorge alle tramonta alle e va bene però questo flusso di energia continua ragazzi sono come i portali specialmente quando c'è anche l'eclissi come questo mese abbiamo la luna piena l'eclissi è questa influenza durerà almeno tre giorni pieni sicuro quindi due tre giorni fatelo cominciate il 26 maggio fino almeno al 29 30 di maggio continuate va bene si legge così la pronuncia è questa e appunto andiamo a chiedere di aumentare ok voi pensate mentalmente a quello che volete ok pensate a quello che volete potete dirlo anche a voce quello che volete anche a voce o anche nella mente va bene però questa frase deve essere recitata ripetiamola l'ho detta tre volte prime due volte adesso 5 stop quindi fate lo screenshot fate quello che volete questa frase appunto detta così recitata così produce l'effetto sapete quanto è importante come quando vi spiegavano i decreti l'effetto della vostra voce e dell'energia vibrazionale di quando si recita qualcosa è molto importante allora partiamo per chi ha scelto il bottone verde vediamo da qui a un mese che cosa ci dicono gli angeli e consigli per te vediamo bottone verde il prossimo mese allora bottone verde ce ne vuol dire due addirittura allora una relazione che continua a crescere ok quindi molto bene c'è bisogno da perdonare qualcosa ci dice qua e e poi avrai entro questi 30 giorni la risoluzione di un conflitto ok cioè qua ecco il sole tra l'altro con l'arcangelo Uriel qui ti si risolve qualcosa che sia a livello legale familiare personale un conflitto una disputa ti si risolve e con il sole l'arcangelo Uriel ci dice che avrai anche delle idee pure brillanti tra l'altro per raggiungere il successo e devi avere fiducia in te stessa o in te stesso ok quindi ottimo devo dire che ti si risolve pure qualcosa quindi mi raccomando pure questa frase così gli diamo come si dice un'aiutata è un aiutino a insomma a questo che deve accadere con la luna magari ti si ti si accelera un po' è finalmente magari la conclusione di qualcosa che aspetti bottone verde bottone verde eccoci qua allora qua abbiamo delle scelte effettivamente da fare questo è un mese in cui i prossimi 30 giorni saranno dettati dai cambiamenti per te decisioni cose che accadono scelte da fare cambiamenti ok per molti potrebbe riguardare anche l'amore ma no qui possono essere anche altri nel bottone verde quindi vedete un po' voi che cosa magari potrebbe essere questa decisione qui una decisione probabilmente sarà anche dovuta al fatto del conflitto che si risolve quindi si risolve qualcosa si deve decidere quindi di conseguenza qualcos'altro è bottone verde vediamo cosa c'è da sapere qua dai miei oracoli divini canalizzati per il bottone verde cosa deve sapere qua il bottone verde prosegui la tua missione sulla terra realizza il tuo scopo divino senza indugi o esitazioni numero per te 999 poi che cosa significa può essere tante cose intanto vai a guardare i significati dei numeri angelici su internet comunque questo 999 che comunque ha sempre a che fare con quello che c'è scritto qua sopra il significato è non è messo a caso il numero qua ci dice che probabilmente c'è qualcuno che ascolta che si è incarnato qua che è venuto qua o sei anche magari un operatore di luce uno star seed un semi stellare qualcuno comunque che è venuto qua per aiutare gli altri probabilmente una missione è probabilmente sei anche una persona sensitiva una persona che aiuta una persona anche che legge magari le carte o comunque che dà un qualcosa proprio con la sua presenza con il tuo servizio agli altri ok qui ci dice di proseguire questa missione sulla terra perché probabilmente hai una missione adesso vediamo per te un segno zodiacale con cui potresti avere a che fare di più o che potrebbe essere determinante per te in questo mese da questa luna piena del 26 fino alla prossima luna piena vediamo un po per chi ha scelto il bottone verde che segno c'è qua che segno c'è vado a prendere questa vediamo il leone ragazzi qui il bottone verde ha a che fare con un'energia di fuoco c'è uscito anche un altro numero che è il 5 quindi potrebbe essere tante cose potrebbe anche indicarci un giorno fortunato particolare il 5 o insomma tante cose un numero particolare il numero di un'abitazione tante cose può significare un numero di telefono che c'è un 5 particolare più volte ripetuto queste cose qua leone per te bottone verde c'è un leone con cui hai a che fare ok puoi essere anche tu magari un leone o comunque avere a che fare con un altro leone come te se sei un altro segno c'è qualcosa di più importante durante questo mese a venire per un leone ok con un leone nella tua vita che magari già sai chi è o comunque si potrebbe presentare qualcuno che è del leone magari non sai ancora chi è anche questo c'è ok quindi bottone verde per te questo mese così mi raccomando recita la formula che ti aiuta ad incrementare qualsiasi cosa ho messo a posta una formula che è buona per tutto che non è solo per l'amore però ragazzi ne ho altre ne ho altre proprio anche per gli avvicinamenti d'amore per sistemare delle questioni prettamente economiche lavorative per che ne so tipo anche non so risolvere questioni d'amore anche magari una persona che si allontanata un po ok c'è qualche pericolo di tradimento insomma si può fare tante cose dopo lo ricordo alla fine ma il post it con la frase lo potete mettere anche dentro la genesa crystal sul lato triangolo vedete che è appoggiata questo è un triangolo ok dopo lo ricordo anche alla fine allora stesa uno lasciami un like al video bottone verde mi raccomando iscriviti al canale ti aspetto in un prossimo interattivo perché hai scelto il bottone 2 il messaggio per te a partire da questa luna piena quindi da queste belle energie che ci sono in queste insomma che ci saranno no quella sera compresa l'eclissi comunque vediamo un po' che cosa ci può venire fuori per te quale messaggio c'è per te qual'evento importante in questo prossimo mese anche dovuto magari un'accelerazione delle energie dovuta alla luna piena dovuta all'eclissi ma anche a tutte le energie che ci sono questo mese è stato pazzesco mangio a livello anche di portali galattici ed energetici proprio dal cosmo date vedere la mia community la mia scheda community ragazzi ho messo anche dei post informativi su questa cosa vediamo un po' bottone giallo cosa deve sapere qua in questo mese a partire dalla luna piena vediamo un po' cos'è che c'è cos'è che accade il consiglio anche angelico penso meglio di questo i tuoi desideri diventeranno realtà finalmente si dissolvono tutte le tue incertezze l'amore della vita voglio dire cioè allora in questo mese o si risolvi qualcosa o trovi il partner finalmente ideale riprendi con qualcuno che non c'era e quindi si definisce meglio la cosa qui ci si allontana dalla tristezza e dalla sofferenza ok i tuoi desideri diventeranno realtà cioè che altro ti devo dire sta luna piena qua per te è una roba bellissima devo dire vediamo un po' ancora per chi ascolta il bottone giallo che bella qua anche vedi devi volare apri le tue ali e vola non sottostimarti mai ok e afferma molto fortemente la tua indipendenza e la tua creatività cioè voglio dire ma qua bottone giallo c'è un'esplosione sto mese bene benissimo devo dire ti si realizzano anche delle belle cose approfittate di questa energia eh ragazzi di questo 26 fino al 29-30 maggio eh recitate questa frase che vi aumenta è veramente magica eh vi aumenta vibrazionalmente è un sacco allora vediamo un po' ancora bottone giallo cos'altro possiamo sapere qua vediamo un po' per il bottone giallo ecco perché perché probabilmente adesso ti sei sentita ho sentito anche un po' bloccato qui vedo un rimandare un procrastinare comunque qualcosa che non sempre magari per causa tua può essere anche per causa d'altri che non sei riuscita ancora a risolvere un qualcosa ok quindi qui mi raccomando di come ti diceva l'angelo affermare molto fortemente la tua indipendenza creatività non rimandare non procrastinare e non permettere a nessuno di farlo c'è anche quello di mezzo di discorso eh di non permettere comunque a nessuno di ostacolarti nel percorso che hai scelto di fare eh questo assolutamente sì allora vediamo ancora poi un consiglio dei miei oracoli canalizzati i messaggi divini si chiamano cosa c'è da dire qua al bottone giallo cosa c'è da dire al bottone giallo stesa 2 cosa c'è da dire al bottone giallo stesa 2 mantieni la tua mente aperta numeri per te 1 55 chi cerca trova ragazzi è la famosa frase chi cerca trova 55 e 1 ok mantieni la mente aperta qui probabilmente avrai delle intuizioni qui avrai delle cose che ti verranno come si dice anche suggerite ok qui c'è gente anche molto aperta a capire anche messaggi magari anche da altre dimensioni volendo qualcuno è anche no abbastanza e qui perché ti dice mantieni comunque quindi qualcuno lo sta già facendo qualcuno invece dovrà cominciare qui ci dice presta attenzione chi cerca trova dovresti anche metterti tu ecco questa indipendenza e forza e creatività continuala così perché stai sulla strada comunque buona manteniti così la mente deve essere aperta e ricettiva e non chiuderti ecco qua rimandare perciò devi continuare molto ad essere sempre percettiva percettivo attenzione a ogni segnale va bene qualsiasi cosa ok tra l'altro 55 è capitato molto spesso questo mese di maggio ci sono stati ben tre portali che hanno portato 5 5 e anche un altro 5 questo è un mese proprio veramente molto molto particolare ragazzi vediamo ora con che segno particolare e più importante o predominante ok non lo dico segno però il segno che sarà più importante o predominante in questo mese a venire pesci ragazzi allora per la stesa 2 abbiamo i pesci in una maniera molto forte e predominante numero 12 o 21 o 1 o 2 ok 2 e 1 qui ci dice che probabilmente con il segno dei pesci ci sarà un qualcosa di più o devi concludere un qualcosa con dei pesci ok dei pesci oppure che verranno a te qualcuno del segno dei pesci comunque questioni aperte con un segno così ok un segno anche molto emotivo un segno d'acqua comunque abbiamo un segno tanto sensibile tanto caruccio però un segno che ha bisogno di molte attenzioni quindi poi vedete voi con un collettivo interattivo che cosa potrebbe significare chi potrebbe essere questa persona già magari la conoscete altri magari non lo sanno ancora si presenterà in modo molto evidente e particolare che anche ci sottolinea anche l'importanza di questa persona di questo segno che può essere in questo mese per te va bene bottone giallo questo era il messaggio per te mi raccomando le parole magiche di recitare devi dire quello che vuoi anche mentalmente mentre la frase ok esprimi mentalmente quello che vuoi ma la frase la devi recitare lasciami anche un like il video e iscriviti al canale bottone giallo ti ringrazio moltissimo ti aspetto in un prossimo interattivo per il bottone blu terza stesa vediamo per te bottone blu da questa luna piena in poi quindi dal 26 maggio fino a un mese quindi fino diciamo fine giugno ecco vediamo un po' che cosa c'è da sapere qua quale angelo ha un consiglio vediamo un po' che consiglio c'è per il bottone blu in questo mese anche con la forza di questa nuova energia energia molto potente una nuova ed eclissia vediamo un po' il blu il blu cosa ci dice ho un periodo di successo ok devi accettare le offerte che ti vengono opposte addirittura qui ci dice che tutto quello che tocchi diventa oro questo mese quindi qui se stai aspettando delle offerte stai aspettando delle opportunità questo mese buono in questo mese ricevi quelle giuste magari del tempo che stai ricevendo che ne so offerte che non ti piacciono cose che non ti piacciono qua in questo mese è probabile con queste energie amplificate o anche complice il fatto che magari reciterai questa formula ci dice che ti verranno offerte delle cose molto belle molto buone di accettarle ok quindi per te questo mese devi accettare che sia lavoro non lo so che cosa è nella vita tua perché siete tanti di offerte opportunità che ti vengono appunto offerte e accettale periodo di successo in arrivo allora sei fortunata fortunato questo periodo è il tocco del remida qua ci dicono quindi oh tra l'altro vedi anche regali soldi in arrivo cioè bellissimo nuove opportunità di carriera cioè guarda che roba ricevi anche un aiuto se hai degli eventuali debiti ok ricevi anche un aiuto o comunque arriva qualcosa del denaro in più non so che ti aiuta a ricoprire un qualche debito cioè voglio dire mi raccomando infatti le parole magiche servono anche per quello anche per la diciamo lo sblocco evidentemente anche finanziario economico per per il bottone blu serva a tutti ma il bottone blu in modo particolare devo dire che può essere aiutato da questa luna e questa eclissi in modo particolare sui soldi qualcosa che anche il lavoro anche il lavoro ci dice qua questo mese è buono dai dai bottone blu che questo mese trovi il lavoro ti siedi sistema il lavoro vediamo ancora un'altra cosa dalla luna piena e dall'eclissi del 26 maggio vediamo un po' ancora bottone blu ecco qua scegli eh allora qui scegli non stare sempre ad aspettare scegli tu c'è anche allora qui qualcuno una buona parte sta anche aspettando effettivamente dell'opportunità che per moltissimi credo nella blu è anche il lavoro non solo chiaramente però qua ci ha portato molto sulla area tua economica materiale lavorativa ok anche di soldi eccetera potrebbe essere anche questioni legali ragazzi è perché io l'associo sempre anche a questo non è solo lavoro ma potrebbe essere anche la conclusione di qualche che non so anche o cause legali o comunque cose relative a case firme contratti capito queste cose qua qua ci dicono che ti vengono offerte delle belle cose ok da fine maggio a fine giugno entro questo mese e sono da accettare sono buone qua ci vengono offerte delle cose addirittura nuove opportunità di carriera per chi aspetta un lavoro nuovo quindi ottimo per te se stai aspettando un lavoro questa luna ti aiuta chiedi anche la luna quindi anche questo di poter trovare finalmente pace a livello lavorativo se già lavoravi ed è andato un po' così così oppure se lo stai cercando proprio da zero vediamo uno dei miei oracoli divini dei messaggi divini canalizzati per chi ascolta la terza stesa bottone blu cosa c'è da dire qua vediamo un po' cosa c'è da dire al bottone blu sei un seme stellare bottone blu sei uno starseed allora 0010 110 il numero per te qui ci dice chiama la tua famiglia di luce quindi qua ci dice che probabilmente hai molta energia già di tuo qua e magari non lo sai o sei una persona risvegliatasi da poco magari che ancora non aveva ben compreso magari la potenza quanto potere hai qui ci dice che hai tanto potere la tua famiglia di luce ti aiuta anche qui ci dice chiamaci quindi qui dovresti chiamare puoi recitare tipo non so mia famiglia galattica mia famiglia di luce aiutami vai a vedere il video delle famiglie galattiche e famiglie stellari che l'ho messo nel canale appunto vedi tu particolarmente lo dovresti guardare perché c'è un altro messaggio per te là sento proprio nella 3 che devi andare a guardare quel video là 0010 110 questo è anche un codice galattico tra l'altro però potrebbe significare anche comunque 001 o che vedi molto le 1 e 10 ok o l'1 e 0 1 ok che vedi non so un sacco di 1 un sacco di 0 anche ok quindi c'è comunque un azzeramento un ricominciare qua c'è una bella una bella anche un bellissimo nuovo inizio comunque qua con questi 0 e questi 1 hai anche una certa protezione devo dire qua probabilmente sei una persona anche che chiede che chiamo che prega comunque a modo suo con le due cose qua c'è qualcuno di questo tipo che sta in ascolto bottone blu mi raccomando che è il touch qui hai il midas touch ok hai praticamente il tocco del remida quindi che dirti continua così mi raccomando con la formula magica recitala bottone blu lasciami un like al video iscriviti al canale e attiva anche la campanellina vi ricordo a tutti nell'info box le mie info allora per concludere un attimo sulle parole magiche quindi la formula che avete visto all'inizio la ripetete ok dalle 3 alle 5 volte al giorno a partire dal 26 fino al 29 30 maggio e chiedete anche quello anche mentalmente va bene la richiesta di eventualmente fare anche un'aggiunta una cosa in più bottone blu il segno zodiacale non ti ho visto bottone blu la persona con cui avrai più a che fare ce l'avevo spostata di qua queste allora vediamo un po' con che segno zodiacale ha più a che fare il bottone blu vediamo un po' con che segno il zodiacale avrà più a che fare o sarà più importante per chi ha scelto il bottone blu prendiamo questa il toro per te con il numero 2 bottone blu il toro per te sarà una figura importante questo mese o chi ti aiuterà o sei tu del toro o comunque se incontrerai una persona del toro che sarà molto molto importante per te in questo mese ti aiuterà in questa evoluzione magari potrebbe essere la persona che aspetti potrebbe essere una persona che ti chiama appunto per lavoro potrebbe essere un professionista un qualcuno il segno del toro sarà particolarmente importante per te ok da fine maggio a fine giugno quindi questo mese a venire mi raccomando recita le frasi per aumentare la potenza di tutta l'energia che è bloccata e che deve venire a te ok perché a tanti è solo bloccata non è che non ce l'hanno quindi bisogna in qualche modo sbloccarla con i decreti vari affermazioni però lo devi fare tu non devi chiedere agli altri ok se lo fai tu cambia tutto è molto meglio ok quindi il toro per te bottone blu il toro per te questo mese è fondamentale ok quindi dicevo andando avanti ciao bottone blu che quella frase che dicevamo all'inizio cum luna plena ad ecfectum perduco omnia desiderata dalle 3 alle 5 volte dal 26 al 29 30 maggio potete anche scriverla mettiamo che questo sia un post it ok scrivete appunto cum luna plena ad ecfectum perduco omnia desiderata e la si mette dentro la genesa è proprio un trasformatore è un amplificatore questo vabbè è più grosso il post it quadrato piccolino la si mette qui va bene per un'ora al giorno va bene per un'ora al giorno la mettete lì e non so perché questa è anche quando la toccate vi dà anche molta energia prendetela in mano capito chi ce l'ha lo sa come funzionano le genesi ok che poi bisogna anche il nome eccetera si può mettere dentro anche i nomi dati di nascita tantissime cose faremo anche dei video su questo quindi il post it con le frasi magiche che metterò anche prossimamente ricordo sono di cristiano tenka per chi è interessato vada a vedere i libri di tenka appunto mettete il post it dentro ok un'ora al giorno qualche giorno ok finché dura questo effetto di luna molto potente di eclissi molto potente un'ora al giorno poi lo togliete ok la genesa la mettete dove vi pare da un'altra parte ok e poi il giorno dopo rifate un'altra oretta con questo post it dentro lato triangolo lato triangolo vedete qui c'è il lato quadrato vi serve anche per la coppia per fare altre cose sulle coppie qua c'è il lato quadrato e il triangolo ok questa cosa particolare va sul lato triangolo mi raccomando ci sono tanti bei lavori che si possono fare anche in amore anche belle cose con la genesa ragazzi in questa bellissima energia che ho qui vicino a me amplificata mille io vi ringrazio vi saluto invito tutti quanti ad iscriversi attivare la campanellina guardatevi anche altri lavori per la crescita personale che sono su questo canale come sapete ma per chi non lo sa lo sa adesso guardatevi tutta la mia lista di video che ci sono sotto le infobox per parlare con me c'è tutto dentro là ok nell'infobox la mail anche a volte vi compare magari in sovraimpressione quando monto il video però tutte proprio le informazioni siti web social eccetera mi trovate nell'infobox grazie mille vi auguro tantissime cose belle a tutti buona luna piena approfittate di questa stupenda energia a nostra disposizione di questa eglissi che amplificherà ancora di più l'effetto di questa luna veramente chiamata di sangue ok veramente questo effetto il rosso che vedrete affacciatevi e prendete l'energia andate anche fuori proprio ok non state sempre dentro il cemento andate anche fuori chi può ok a respirare a farsi attaccare da queste cellule che vengono giù queste particelle ok che emana l'eclissi e che emana anche la luna ma nel cosmo stommaggio a parte siamo pieni di questi tipi di piogge energetiche potentissime di raggi gamma eccetera chi sta fuori non so se l'avrà sentito ma comunque c'è veramente nell'aria una potente energia vi mando un grandissimo bacio un grandissimo abbraccio vi aspetto presto qui su quinta dimensione letture per un nuovo video ciao a tutti ciao a tutti